allora sono qui con solito con questo disegno dove ho l'assieme e qui ho la manovella allora vedendo questo disegno la mia domanda è è così essenziale mettere il dato qua sul 40 che è questo prima domanda e poi è così essenziale mettere una concentricità tra i 40 e poi quest'altro è il 45 punto di domanda io credo di no e dunque a mio avviso queste tolleranze geometriche anche la scelta dei datum sono errate ci vediamo alla prossima arrivederci